Ciao io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sottognazzo, ci troviamo qui nel mio barmita e siamo pronti per una nuova interessante ricetta e mi sono voluto ispirare appunto a questo periodo invernale dove fa freddo e abbiamo creato un hot toddy. L'hot toddy è una ricetta diciamo veramente molto classica che ha come struttura il fatto di essere intanto un cocktail servito caldo e di solito si beve appunto quando si ha influenza, raffreddori, ma comunque anche semplicemente per riscaldarsi nelle giornate piovose o comunque fredde. La struttura ripeto è molto semplice, ha un distillato o un liquore, quindi può essere un whisky, rum, brandy o un liquore a tua scelta, poi ha del succo di limone, del miele e dell'acqua calda con delle spezie in infusione, quindi prendendo ispirazione da questa ricetta classica noi che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo intanto creato questa ricetta che abbiamo chiamato Feel Ok. Perché Feel Ok? Perché un mio cliente che si chiamava appunto Feel era un po' raffreddato, un cliente americano era un po' raffreddato e venne al bar e mi chiese un qualcosa per stare un pochino meglio e io gli preparai un qualcosa di molto simile a quello che sto preparando per te adesso e quindi gli chiesi Feel? How do you feel? E lui mi ha detto I feel ok e quindi giocando su questa cosa qui la dedicherò a lui. Bene, di che cosa abbiamo bisogno intanto? Abbiamo bisogno di whisky in questo caso, qualsiasi whisky che hai, se hai del bourbon o dell'irish va benissimo, poi abbiamo bisogno di acqua calda, di miele, una fettina di limone e un mix di erbe. In questo caso le erbe che io ti consiglio sono appunto le tipiche invernali, sono anice stellato, zenzero, chiodi di garofano, semi di finocchio, la cannella, l'arancia, insomma la noce moscata. Io a queste ci ho aggiunto anche, per dare un tocco diciamo un po' wild, le ho aggiunto anche dell'alloro, della menta, dell'eucalipto, del mirto e del limone. Quindi io che cosa faccio? Adesso procedo, vado a metterle in questa bella siringhetta, così da evitare poi che ci rimangano pezzettini nel bicchiere. a posto. Benissimo, siringhetta pronta, io qui avevo già messo un po' di acqua calda per tenere la tazza ben calda. Dopodiché, 5 cl di whisky, alla vecchia maniera proprio, 5 cl di whisky, un cucchiaino di miele. Chiaramente in questo il miele si scioglierà un po', è un po' addensato in questo momento, quindi o lo metti un po' a bagnomaria per renderlo un po' più fluido, oppure ti aiuti con un altro cucchiaino. Benissimo. Dopodiché andiamo ad aggiungere l'acqua bollente, così. Sciogliamo un po' il miele che si è depositato sotto, dopodiché ci spruzzeremo il nostro limone dentro, in questo modo, e completeremo mettendoci la nostra bella siringa con le herbe all'interno. La lasciamo in infusione per un paio di minuti e possiamo comunque già servirlo in questo modo. Io chiaramente il bicchiere originale dell'Ottodi è diverso da questo, è un bicchiere in vetro trasparente con la manichetta, noi proprio perché gli abbiamo dato questo tocco un po' rustico, diciamo così, abbiamo deciso di servirlo in questo modo. Andrò a decorarlo con una semplice buccia di limone con un chiodo di garofano per farlo mantenere, ed ecco a te il tuo filo ok. Spero che questa ricetta ti sia piaciuta, fammi sapere cosa ne pensi, commenta e condividi con i tuoi amici, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e ovviamente sperimenta e diverti sempre e noi ci vediamo presto, anzi prestissimo. Alla prossima, ciao!